Abbandonare una passione per scovarne una nuova e più contemporanea. Questa è la scelta fatta da Elena Zaccarelli, specialist di arte moderna e contemporanea per la Casa d'Asta Internazionale Christis. Il mercato dell'arte lei lo ha vissuto sul campo e in dialogo con differenti professionisti e protagonisti del mondo dell'arte, occupandosi della logistica, dalla creazione del mandato a vendere, al coordinamento del ritiro dell'opera, della fotografia, della catalogazione, del restauro e della spedizione alla sede d'asta. Oggi Elena si occupa di valutare opere d'arte e di allacciare rapporti con collezionisti che desiderano vendere o comprare con Christis, senza dimenticare le private sale per tutte le categorie di competenze della Casa d'Asta. Per lei essere giovane e donna è una sfida anche nel settore dell'arte, ma professionalità e competenza fanno la reale differenza nel valutare al meglio il suo operato.